Ciao ragazzi, bentornati in queste nostre serie di interview. Oggi abbiamo con noi uno super special guest, Andrea Cipriano, che è un postdoctoral researcher and instructor presso il laboratorio del professore Vittorio Sebastiano, che fa parte quindi del Stem Cell Institute dell'Università di Stanford. Ok, adesso Andrea ci spiegherà un pochino che cosa significa tutto questo e si presenterà e ci spiegherà un po' qual è stato il suo percorso di studi e come è arrivato a Stanford. Grazie Anita, grazie dell'invito e dell'opportunità insomma che mi stai dando di condividere un po' questa esperienza, quello che è stato il mio percorso di studi e lavorativo con tutti i ragazzi che insomma sono in connessione con la tua platform. Io sono di Roma, in realtà Formia, che è un paesino vicino a Roma, ho studiato all'Università di Roma la Sapienza, ho fatto la triennale in Biotecnologie e il Master in Biotecnologie Genomiche, poi sono rimasto a Roma dove ho fatto un dottorato di ricerca in Genetica e Biologia Molecolare, sempre presso la Sapienza e poi insomma sono approdato qui all'Università di Stanford, dopo insomma una serie di interview con una serie di professori, ho iniziato tre anni fa nel 2019 il mio percorso lavorativo qui a Stanford e noi lavoriamo appunto su cellule staminali, quindi studiamo come le cellule diciamo differenziano in vari tipi cellulari, come danno origine a diversi tipi cellulari e siamo particolarmente interessati appunto a leggendo, quindi a come le cellule invecchiano, a perché le cellule invecchiano, a come fare per ritardare questo processo. Insomma questo è un po' il mio background scientifico, io qui a Stanford faccio prettamente ricerca e insegno, insegniamo in un Master di Stem Cell Biology, quindi abbiamo studenti che vengono insomma da varie università della California che fanno insomma un corso intensivo di una settimana dove appunto interagiamo e sentiamo un pochino quelle che sono i loro feedback, le loro esperienze, insomma è un corso un po' interattivo che aiuta un po' noi anche a capire loro e a loro insomma ad avere un background sulle stem cell. Guarda, interessantissimo soprattutto per chi studia appunto questo settore scientifico, ma raccontaci un po' allora com'è la vita a Stanford, quanto è diversa dalla vita in Italia e perché hai scelto di venire in America? Guarda, la vita a Stanford è intensa, è bello perché specialmente se ti piace diciamo l'ambiente universitario, è veramente una overdose, una fortissima esposizione a tanti stimoli e insomma a me piace viaggiare, quindi piace esplorare nuovi posti, andare in nuovi ambienti e penso che insomma sia un'esperienza che arricchisca in generale, no? Comunque noi sai, nasciamo, cresciamo e ci formiamo in un ambiente che comunque è un po' protetto, no? Che è appunto l'ambiente italiano, poi quando usciamo fuori, usciamo un po' fuori da quella che è la nostra comfort zone, però penso che sia un'esperienza di vita oltre che lavorativa importante, perché comunque Stanford ha la fortuna di essere un ambiente molto, diciamo, diversity qui, no? Cioè ci sono tante culture, tante diciamo, tante persone molto diverse fra di loro, no? Che vivono insieme e secondo me questa è una delle cose più belle, che vivere all'estero, insomma, lavorare all'estero, ma anche fare un'esperienza all'estero, secondo me ti dà. Io non ho mai fatto internship, anche se avrei tanto voluto farle, però insomma il mio percorso poi mi ha portato a fare altre scelte, però ho viaggiato molto, ho fatto diciamo molti esperienze, diciamo campi studio, che mi hanno portato anche ad andare in diverse parti all'estero e mi ricordo che ho sempre pensato, ho fatto no, io voglio andare fuori, voglio viaggiare, perché comunque, come ti dicevo, al di là del lavoro, sei esposto a tanti stimoli nuovi, no? Assolutamente. Sei un po' fuori da tua comfort zone, quindi ti dico, Stanford è un bel ambiente, è un ambiente dove c'è tanto stimolo scientifico, tante risorse e ci sono sicuramente tante possibilità che purtroppo spesso in Italia ancora mancano. Comunque è una delle top university al mondo alla fine, fine. Ma invece la questione networking, che cosa ne pensi un po' del network? Perché è una cosa che magari è molto americana, anche io adesso, come sai, mi trovo qui a San Francisco come te e quindi mi sto rendendo conto proprio che il networking è una delle parti più importanti, quindi anche quando i ragazzi magari vanno a fare un internship all'estero, io consiglio sempre di fare tantissimo networking, anche perché non sai mai dove puoi approdare, no? Perché magari conosci questa persona a questo evento, che può essere, non so, un qualsiasi evento, soprattutto qua a San Francisco, cioè fanno eventi praticamente ogni giorno, di ogni tipo, e quella persona non sai mai che porta possa aprirti, perché magari la ricontatti dopo qualche anno e ti dici, guarda, c'è questa posizione presso questa azienda, fai l'application, oppure guarda, magari metto una buona parola o comunque magari ti presento, faccio, qua in America c'è tanto questa cosa di fare un introduction mail, no? Quindi mandi una mail congiunta di introduzione, poi lasci che quelle due persone che hai messo in contatto si possano parlare, mettere, magari sentirsi o incontrarsi e poi poter effettivamente magari anche concludere, che ne so, un rapporto di lavoro oppure, non so, appunto trovare un internship oppure qualsiasi altra cosa. Che ne pensi di questa cosa? Hai toccato un punto chiave, penso che la parola chiave di tutto questo è proprio networking, a parte che noi ci siamo conosciuti così, tra l'altro, no? Siamo conosciuti a un evento a San Francisco e hai detto, dai, facciamo questa intervista, quindi no, il networking... Sì, io penso che Stanford sia appunto, e la Beiera in generale, sia un po' un trampolino di lancio. Hai detto una cosa secondo me giustissima e importantissima, perché il networking è alla base delle relazioni lavorative di oggi, no? In qualsiasi campo, si applica in ambito scientifico, si applica in ambito, insomma, in qualsiasi ambito lo vuoi applicare, il networking c'è, specialmente quando si parla comunque di lavori interdisciplinari. Siamo anche in una fase storica in cui c'è molta contaminazione, no? Tra diversi campi che si uniscono. E quindi fare il networking, secondo me, è proprio uno dei punti chiave che un'esperienza all'estero ti dà. Perché sì, sei esposto a cultura, ma sei anche esposto a environment nuovi, come tu ci sono tante company che magari sono interessate. Spesso sai, uno studente che fa un internship, per esempio, no? Ci sta che non abbia le dichiarazioni al 100%. Ah, assolutamente. Ok, io a me piace, io parlo di me, facciamo finta che io vado fuori, no? Io a me piace la scienza, però non so dove andare a inserirmi, in quale panorama lavorativo andare a inserirmi. C'è l'accademia, c'è la company, ci sono le start-up, ci sono tante strutture che spesso non si conoscono, perché comunque l'università in Italia ti dà delle basi scientifiche, ma tutto questo che appunto hai assunto con networking è una cosa che ti permette poi di imparare, di capire nuove cose e di entrare in contatto anche con persone che, come tu dici, magari cercano qualcuno che abbia una specifica competenza che magari tu hai e nascono collaborazioni, nascono funzioni. E poi la Beyeria, insomma, tu sai meglio di me che è un posto dove, cioè questo è vero all'ennesima potenza, è pieno di company che cercano di recruitment, è pieno comunque di start-up che si formano. Sì, che poi le start-up qua crescono a livelli esponenziali, velocissimi, nel giro di un anno potrebbero assumere veramente centinaia di persone, per cui... La differenza che ho visto con l'America è proprio questa, l'America lavora a un'altra velocità, è tutto veloce, è tutto facile, il tasso di rifallimento ha anche altro, perché molto spesso non vanno, però c'è tanta possibilità. Quindi, ripeto, secondo me, io non ho avuto l'opportunità di fare un'esperienza all'estero di questo tipo quando, insomma, ero un po' più piccolino, però sicuramente mi avrebbe aiutato molto, perché sai, è come un po' una palestra, no? È come iniziare un'esperienza che magari dura quei 15 giorni, dove conosci per persone, perché immagino anche le persone che vengono con te in internship, si creano dei legami... Assolutamente. Quindi, secondo me, è un'esperienza che consiglio di fare a tutti, proprio perché ti dà qualcosa, non solo a livello, diciamo, personale, ma anche, diciamo, di networking, che poi ti permette di venderti un domani, o di sapere da chi andare, di sapere a chi chiedere, no? Che è una cosa che spesso uno non sa. Ho fatto un'interview con un ragazzo prima che mi ha chiesto su LinkedIn, mi fa, guarda, mi dai qualche consiglio? E lui fa, guarda, io voglio fare questo, ma non so come fare, non so chi rivolgermi. E essere, diciamo, dirottati in questo network, come tu hai detto prima, secondo me ti dà quella marcia in più, quelle conoscenze, quelle capacità in più, poi, di poter trovare quello che fa per te. Sì, assolutamente, assolutamente. Ma secondo te anche un'altra cosa che io consiglio sempre ai ragazzi è quello un pochino di apprendere anche, no? Il modo di fare business in un altro paese, perché è un qualcosa di completamente diverso, cioè nel senso, come si fa business in Italia? È in maniera molto diversa da come si fa business e come si interagisce, no? Nel mondo del business in America. Anche proprio nelle formalità, quelle che chiamano anche business etiquettes, come ci si comporta. Il mondo del lavoro in generale in America ho notato che è molto diverso, è molto più libero. Cioè, in Italia ci sono un pochino più ancora, diciamo, legati agli orari, quindi devi fare quelle otto ore. Invece qui ho notato che è molto più a progetto, nel senso che se tu hai un progetto e lo finisci all'interno di un certo tot di ore, poi sei libero. Comunque poi il tuo... Non c'è molto micromanagement, tra l'altro. Cioè, nel senso che il tuo superiore non sta a guardare ogni singola cosa che tu fai, ma ti dà delle task, ci sono delle deadline, una volta raggiunte quelle è a posto, nessuno sta a guardare effettivamente, no? Quante ore hai svolto, se hai lavorato cinque ore la mattina, se devi recuperare le ore la sera, eccetera. Qua è molto libero la questione lavorativa. Sì, dipende anche molto dall'ambiente in cui lavoro. Una cosa che io dico sempre, quando mi chiedo ad Andrea, com'è Stanford? Io dico, chiedimi com'è il tuo gruppo, perché Stanford è un micro... Quello che dici tu, penso che molto... In linea di massima mi ci ritrovo molto, lo vedo anche io, nel senso che si è molto più dinamici. Nel senso, tu hai questa task, mettici il tempo che ti serve. E in base a quello, qui vanno più su quanto produci che su quanto lavori, che è una delle più grandi differenze e che è verissimo, perché comunque l'America, insomma, si va per prodotto. Nel senso, se tu produci in due ore, ci metti due ore, ben venga perché. Questo ti dà anche la possibilità di crescere di più e anche di fare altre attività. Dipende poi però spesso anche l'ambiente lavorativo in cui capiti. Esistono i manager, che sono micromanage. Non è un sistema che, secondo me, funziona molto in America, esattamente per quello che hai detto tu, perché appunto il fulcro qui è cercare comunque di essere produttivi il più possibile, di portare alla fine, specialmente se lavori in company, questo no? Di lavoro in accademia, però ho un sacco di conoscenze, di amici, insomma, che lavorano in company, mi dicono che spesso sono dei prodotti molto stressanti, in cui hai delle deadline molto forti, però una volta che tu hai fatto quello che devi fare, poi c'è anche la possibilità di vivere, che è anche una cosa molto bella, sai, vivi in un ambiente come questo, pieno di cose da fare, è bello anche lavorare, ma dedicarsi anche ad altro. Quindi questa è anche un'altra grande differenza che, secondo me, c'è spesso nel sistema. Sì, diciamo che forse è il work-life balance. Sì, il work-life balance è leggermente diverso, no? Da quello italiano, nel senso che sia un pochino più liberi, effettivamente. Poi anche ho notato che, insomma, anche le aziende ci tengono moltissimo ai propri dipendenti qui in America, nel senso che ci sono tantissimi eventi che vengono fatti dalle aziende. Adesso, insomma, questa settimana, ad esempio, c'è la plug-and-play, la plug-and-play summit, in cui, insomma, è aperto a tutti. C'è la possibilità di incontrare le start-up, di fare networking. Ci sono degli eventi in cui proprio ci sono cene, pranzi. Quasi tutte le aziende hanno, non lo so, la cucina, in cui ci sono cibo a volontà. Sono cose che magari sono un po' strane per l'Italia. Ci sono molti benefit, diciamo, per gli employees, no? Ho notato io almeno questa cosa qui in America. Anche la start-up più piccola, diciamo, che c'è questa cosa, comunque, di condividere degli spazi proprio per i propri employees, in cui magari si va a fare yoga insieme, in cui si fanno delle attività che possono essere anche extra work, no? Me lo confermi anche a Stanford, così? Sì, 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 sì. Questa cosa è molto comune, anche Google, Apple. Diciamo, la loro filosofia è più dipendente e contento, più produce. Più produce. Esatto. Più, e quindi, di nuovo, torniamo sempre al flusco principale. Poi, ripeto, a volte ci sono persone alle quali questo non piace. Nel senso, ognuno di noi è diverso, ognuno di noi è fitta in un determinato ambiente. Al di là di questo, però, secondo me, è un'esperienza che vale la pena fare. Nel senso, prima di dire a me non piace, è bene, secondo me, provare. Per questo, secondo me, a fare un'esperienza, no? Diciamo, fuori. Comunque, ti fa vedere, ok, la situazione è così. Io sono un buon fitter in questo ambiente, io non sono un buon fitter, perché sono tante. Molte persone preferiscono uno stile di vita diverso, non è, diciamo, non la metterei come è un modello migliore o peggiorno. No, no, è diverso. È diverso. Esatto, è diverso. Ci sono persone alle quali piace molto e che si trovano molto bene in questo ambiente e persone che preferiscono diciamo altre dinamiche lavorative. Quindi, secondo me, di nuovo, anche conoscere quello che c'è fuori e fare esperienza, no? Di quello, di quello che c'è di diverso rispetto a un sistema conosciuto, che è quello probabilmente italiano, quello dove siamo cresciuti, secondo me, ci dà anche la possibilità di fare magari una scelta più, più consapevole. Però, assolutamente vero, anche questo, il dipendente qui viene tra specialmente in company, viene, diciamo, trattato, viene valorizzato e viene comunque sia coccolato, se vogliamo, perché la filosofia è più sei felice, Anche perché c'è, diciamo, un cambio di dipendenti molto molto alta, nel senso che c'è una competizione molto alta, la gente comunque sta magari in un ambiente laborativo, un paio d'anni e poi si sposta. Quindi, diciamo, che un pochino le companies si fanno anche un po' la guerra, no? Da questo punto di vista che offre di più. Sì, è la differenza fondamentale anche questa che c'è con l'Italia, no? Qui c'è tanta offerta e quindi il dipendente è visto come una risorsa, no? Io voglio che questa persona che lavora per me perché può arricchire la mia company, voglio investire su questa persona perché questa persona può in qualche modo dare qualcosa di concreto e quindi nasce come tu hai sottolineato appunto anche la competizione tra le varie company che per chi è dipendente ti permette anche di fare carriera. Secondo me, esatto, qui hai, se volessimo fare un riassunto, no? Secondo me in America ci sono tante possibilità. C'è anche tanto fallimento, sono persone che vengono licenziate. Dall'altro lato se non produci e se non vai bene cioè vieni comunque sia allontanato, guarda, ci dispiace ma non sei un fit per una azienda. quindi c'è anche diciamo dall'altro lato possibilità di falimento ma essendoci tante risorse, tante company, tante possibilità se una persona è ambiziosa, è determinata e vuole fare carriere, vuole fare quello che gli piace e se gli piace il mondo tech o il mondo accademico secondo me sono un po' bias perché insomma è la scelta che più ho fatto io però secondo me è l'ambiente giusto, l'environment è esattamente quello. Assolutamente. Ascolta, torniamo un pochino al tuo settore ci racconti un pochino un ragazzo che ha studiato quello che hai studiato tu come può fare ad entrare a Stanford come si fa ad avere un postdoc a Stanford ottima domanda quali sono le esperienze che possono essere risultare super interessanti a Stanford e perché fare cioè come hai scelto tu questa cosa come hai capito che volevi arrivare lì come si entra cosa bisogna fare ti racconto un po' in breve la mia esperienza e poi ti dico quello che secondo me è il patto è da seguire ovviamente in base a quello che è la mia esperienza io mi sono formato in Italia e penso che l'Italia ha una cosa che poche altre nazioni hanno che è un sistema universitario veramente solido io mi sono formato in Italia e ho avuto dei grandi mentor ho imparato tantissimo ho lavorato tantissimo ma sono grato all'università italiana per quello che mi ha dato perché io ho avuto modo di fare un dottorato innanzitutto a costo zero di laurearmi a costo zero parliamo dei costi dell'America e questa è una cosa che secondo me non apprezzo e ripeto un po' mi dispiace anche a volte penso dico beh però potrei stare in Italia a dare qualcosa che ti ripeto è un meccanismo un po' complesso perché dall'altro lato comunque l'Italia ci forma però poi non offre quelle che sono posti di lavoro quindi in qualche modo uno è un po' obbligato ad andare fuori però ci sono anche tante persone che conosco che hanno fatto un'esperienza fuori per poi tornare in Italia e non escludo che poi possa essere insomma anche una scelta che farò io in futuro però tutto questo per dirsi che io penso che la formazione italiana è un'ottima formazione abbinata a un'esperienza all'estero perché? perché l'esperienza all'estero ti dà quel qualcosa in più sia a livello di curriculum noi quando facciamo interview per position l'esperienza all'estero è una cosa quasi un must è un must perché ti dà anche in Italia e se vuoi aspirare a posizioni accademiche l'esperienza all'estero ti dà quella marcia in più che ti permette in qualche modo di fare carriera diciamo più velocemente perché hai comunque accumulato delle competenze in più quindi il percorso che io consiglio di fare è cercare di rimanere nell'università italiana il più tempo il più lungo possibile perché la qualità è veramente alta i professori sono ottimi proprio professori sebbene le infrastrutture non sono belle come insomma come quelle di Stanford la qualità e la sostanza che c'è nell'università italiana è molto alta e poi ti fai ricerca secondo me devi dire ok ho finito il mio dottorato è il momento adesso di fare un po' palestra cioè di vedere tutto quello che ho imparato nella palestra dell'università italiana come posso farlo fruttare in qualche modo e quindi insomma consiglio di mandare application a gruppi di interessare ovviamente più si va avanti nel percorso universitario nel nostro campo più si diventa settorializzati cioè diventiamo specifici io per esempio ho iniziato con biotecnologo poi sono diventato un biologo molecolare epigenetica mi sono focalizzato diciamo su un topic ben preciso ma anche perché è una cosa un po' americana questa vero di essere molto molto specifici su una materia cioè nel senso in Italia siamo molto generalisti sappiamo tanto di tante cose e però poi in America ho visto che proprio uno è proprio specifico specifico guarda anche l'università italiana perché comunque il dottorato il dottorato comunque sono tre anni in cui tu fai ricerca su un topic quindi ovviamente tu inizi avendo una una competenza generale che è un po' di tutto che è la triennale nel master inizi un po' il tuo percorso di specializzazione ok però fammi focalizzare sulla su questa macro subcategory che comunque può essere nel mio caso è stata la genomica per esempio e poi nel dottorato inizia a lavorare su un percorso quindi diciamo la settorializzazione è un percorso tra virgolette un po' fisiologico perché un domani tu devi avere competenze quando devi lavorare in un gruppo il gruppo cerca competenze i tuoi sono importanti ma tu devi dimostrare al pi al professore che sia che ti assume che sei bravo in quella categoria nel nostro caso le pubblicazioni sono un grande biglietto da visita se tu hai pubblicato vuol dire che hai lavorato per anni su quel progetto e quindi sei portatore di competenze nel laboratorio ok il postdoc è un'esperienza alla quale si può accedere e ripeto gli italiani gli scienziati italiani hanno comunque un percorso e una settorializzazione che sono ben voluti all'estero sono ben voluti perché sappiamo fare ricerca sappiamo lavorare sappiamo comunque siamo molto preparati no? sì sono molto sono molto desiderati insomma i ricercatori italiani perché l'università italiana secondo me è di altissimo livello quindi io consiglio di fare un dottorato in Italia e poi di venire comunque sia all'estero se si vuole che sia Europa che sia America e fare un'esperienza in un buon laboratorio che ti può dare tanto che ti può aiutare a imparare e se riesci a abbinare anche un'esperienza all'estero per i motivi detti prima secondo me hai anche un po' quella marcia in più perché la lingua sei anche più bravo a parlare l'inglese e sei comunque sia esposto a livello più personale anche a poi magari sai come dicevamo prima comunque hai imparato anche a avere a che fare con persone che hanno una cultura diversa quindi comunque magari anche durante un colloquio di lavoro sai effettivamente gestirti hai avuto a che fare con una con persone che lavorano in un certo in un certo ambiente che sicuramente è diverso da quello italiano e quindi questo sicuramente aiuta moltissimo cioè alla fine se prendiamo due persone che hanno fatto lo stesso identico percorso ma uno ha fatto un percorso anche un'esperienza all'estero probabilmente quello con l'esperienza all'estero ha comunque acquisito delle competenze diverse ecco magari maggiori esatto e il networking come tu hai detto prima l'esperienza all'estero ti porta anche a conoscere perché le persone ci si conosce e ci si aprono comunque sia delle porte quindi hai toccato penso i tre punti fondamentali dell'importanza secondo me di fare appunto un internship o comunque un'esperienza di studio all'estero ok assolutamente chiudiamo facciamo l'ultima domanda ad Andrea e secondo te quali sono i punti più importanti per capire che cosa si vuole fare quindi per fare delle scelte consapevoli rispetto al proprio futuro rispetto alla propria carriera come si fa a decidere dolci sinfondo beh allora ti dico questa è un po' la mia è una domanda sicuramente molto importante ed è penso anche una domanda che si chiedono un po' tutti perché alla fine non sappiamo mai se quella che facciamo è una scelta giusta o no perché non sappiamo se avessimo scelto qualcos'altro cosa sarebbe in caso accaduto quello che ti posso dire io è io penso il primo step è capire quello che ti piace quello che ti fa stare bene quello che ti rende felice spesso però per saperlo devi provare per questo di nuovo secondo me fare delle esperienze ti dà quel ok ho fatto questa esperienza l'America non mi piace è troppo a palla fammi andare in un altro ambiente ok perdonami il francesismo però a palla rende un po' l'idea o poi dice oh mio dio questo ambiente è fantastico voglio troppo sia da un lato che dall'altro quindi secondo me capire quello che è un fit per come siamo fatti noi perché se ognuno di noi è diverso ha un carattere diverso ha una predisposizione diversa a termine di cose quindi per conoscere se stessi e capire quello che a noi piace e penso vale anche per te no insomma anche tu hai capito che ti piaceva insomma essere mentor fare da leader creare è una cosa che secondo me bellissima Anita te lo detto non siamo conosciuti che fa una cosa bellissima secondo me ma è una cosa che ti dà immagino piacere ti fa sentire bene e penso che ognuno di noi debba arrivare un po' a questo punto a me è l'insegnamento a me insegnare è una cosa che mi dà estremamente piacere insegno da tantissimi anni e non lo voglio perdere quindi ho fatto che Andrea la carriera accademica probabilmente è un buon fit per te e poi una volta che hai capito quello che ti piace experience vedi se effettivamente ti piace prova capisci anche se tu sei un buon fit perché insomma io voglio a me avrei adorato fare il pallino di lanza classica ma sono a stecca di legno non sono bravo a ballare quindi vabbè magari faccio altro nella vita ma anche essere consapevoli di quelle che sono le nostre predisposizioni verso una cosa secondo me è importante e l'ultima cosa penso sia la determinazione cioè una volta che tu hai un obiettivo te lo preponi e fai di tutto per raggiungere quell'obiettivo veramente investi energia investi tempo e questo è possibile solo se le prime due ci sono se c'è la passione e se c'è comunque qualcosa che ti piace che rende diciamo il lavoro meno faticoso perché insomma parliamoci chiaro passiamo il 90% del giorno a lavorare se dobbiamo per forza fare qualcosa che ci piace se no diventa veramente una vita triste esatto e per capire questo secondo me come dicevi tu bisogna fare delle esperienze bisogna capire e secondo me se uno vuole è nel dubbio se fare o no un'esperienza all'estero io direi prova vai c'è la possibilità vedi se ti piace vedi se l'environment ti piace in modo che quando farei una scelta la fai in maniera un po' più consapevole secondo me i ragazzi a volte purtroppo pensano cioè nel senso si basano molto su quello che sono le esperienze altrui si fanno un'idea forse sbagliata di quello che è il mondo del lavoro senza poi effettivamente no testarlo davvero invece testandolo è la cosa migliore perché poi se ti rendi conto che magari le tue skills ma anche le persone intorno a te no ti dicono guarda che sei bravo a fare questo quindi credici perché magari riescono a vedere qualcosa in te che magari tu non sei ancora consapevole di avere e quella skill lì magari ti può portare a fare un lavoro che può essere molto particolare anche una cosa che dico sempre ai ragazzi è quello di informarsi un pochino anche su quelli che sono poi i lavori del futuro le nuove professioni perché può essere che magari una skill in particolare che tu hai possa essere un fit perfetto per quel tipo di lavoro lì e quindi magari potresti anche fare una scelta di andare a studiare all'università magari un corso che è nuovo che è appena stato non so introdotto che non so la parte della blockchain tutto quello che è il mondo del fintech che sta nascendo delle cripto eccetera eccetera un esempio come un altro però che magari ti porta ad essere uno dei primi all'avanguardia diciamo di andare a essere magari un esperto di quel settore quindi anche quella parte lì è molto è molto importante un'altra cosa che ti dico sempre ragazzi poi magari ti dirai se secondo te è vero è quello anche di non focalizzarsi sempre solo sui soliti settori tipo non esiste solo legge medicina eccetera ci sono tantissimi specializzazioni particolari lavori particolari cioè informarsi no? Assolutamente assolutamente 100% agree e ti dico anche un'altra cosa ti dico anche che è bene chiedere alle persone ma è bene anche chiedere consigli che ci servono per avere un'idea ma è bene che l'idea ce la facciamo noi per esempio se io parlo con una persona la cui carriera accademica la stressa è una carriera che non fa per lei mi dice mamma mia sto stressato dalla mattina alla sera non faccio altro che lavorare è normale che cioè è bene anche contestualizzare assolutamente cerco un modo per esprimere contestualizzare la persona che ci dà il consiglio quindi io dico chiedere informarsi ma alla fine provare prima di avere un'idea anche perché come tu hai detto siamo in una fase in cui specialmente qui ti puoi creare la tua figura lavorativa esistono dei lavori che magari ragazzi neanche sanno che esistono no? esatto uno esce ok posso fare che non so laurea in economia facciamo bibliologia che magari ne so un po' di più posso lavorare in ospedale posso lavorare in una company oppure posso lavorare in accademia sì ma ce ne sono altre 50 posizioni puoi diventare technical di machine puoi diventare noi facciamo una Stanford class no? a Stanford dove io faccio l'instructor invitiamo due company appunto perché spieghino ai ragazzi quali sono i landscape che gli aspettano e loro scoprono un sacco di cose nuove scoprono anche sui sales representative ci sono persone che fanno R&D per esempio research and development persone che fanno i group leader che coordinano diciamo il lavoro di ricerca quindi anche sapere quali sono le possibilità che uno può avere in futuro dopo essersi formato dopo aver avuto un titolo di studio secondo me è molto importante quindi hai toccato un altro punto chiave le diverse posizioni che si possono avere spesso non si conoscono questo è importante fare esperienza è importante informarsi per fare sempre una scelta più consapevole sapendo quali sono tutte le possibilità che la laurea il dottorato o il titolo di studio che abbiamo comunque se ci aprono quindi concordo al cento per cento ed è importantissimo secondo me anche dire questa questa cosa perché è importante tu ad esempio invece come hai scoperto che la genomica era qualcosa che ti interessava guarda io io ho fatto la laurea in biotecnologie e poi ho dovuto avere un laboratorio per fare la tesi altra cosa perseverare ora che racconta la mia storia che fa un po' ridere ho scritto a quella che è stata poi la mia la mia mentor Irene Bozzoni che è una delle insomma delle professoresse che nella sapienza ha fatto un po' la storia della biologia molecolare per essere preso a fare la tesi con lei senza sapere nulla io dell'epigenetica però sapevo che lei era una che faceva grande scienza era un'ottima insegnante io ero super attratto da da quello che le faceva e quindi le scrissi delle mail alle quali non mi rispose e quindi Sandra che facciamo adesso guarda continuiamo io ho mandato due mail tre mail ovviamente immagino lei sommersa dalle mail non mi ha non l'avrà manco vista al che un velo senti cosa che faccio mi piazzo davanti al suo ufficio prima o poi mi dovrà far entrare quindi mi lessi le ultime due tre pubblicazioni che aveva fatto insomma per farle capire che sapevo quello che faceva mi piantai lì e me lo ricordo ancora lei scese le scale mi guardò mi fece salve lei chi è attuali professoressa sono Andrea Cipriano ah lei è lo stalker sì sono io mi fa prego prego venga mi fece un interview mi poi insomma dopo mi fa beh le faccio sapere e mi arrivo un'email la sera fa guarda ci vediamo la settimana prossima e poi mi affidò diciamo alla professoressa Monica Ballarino che è stata insomma un'altra delle mie grandi mentor con la quale poi ho avuto modo di lavorare diciamo a stretto contatto e queste due figure sono state quelle che poi mi hanno permesso di creare una identità scientifica e di diventare quello che sono perché mi hanno insegnato tanto a livello di scienza a livello di gestione di un laboratorio a livello di perché di nuovo è una palestra Anita è importante avere i giusti mentor altra cosa importante avere una persona che investe del tempo su di te una persona che ha della quale hai grande stima secondo me ti permette di diventare di avere una identità e mi hanno trasmesso una passione che adesso insomma ho portato fuori e che mi sta permettendo di avere un po' la mia carriera individuale quindi assolutamente perseverare perseverare perché di nuovo se uno vuole una cosa non devi mollare siamo giovani io un po' un po' meno adesso però c'è la possibilità comunque di fare tanto siamo fortunati basta ti ripeto se non avessi fatto da stalker probabilmente non mi avrebbe preso non so cosa sarebbe accaduto però alla fine è importante perché se tu fai vedere che effettivamente c'è passione questa cosa ti piace ti interessa le altre persone che lo riconoscono quindi mandare una mail a volte ricevere una non risposta non vuol dire che ci debba per forza diciamo a scoraggiare anzi dovrebbe dire ok vai mandane ancora di più ancora di più anche perché insomma non so se tu sai la storia di di Disney no? lui ha bussato alla porta non so quante 50 100 banche e su 100 99 gli hanno detto di no una gli ha detto di sì ed è diventato Disney e così la storia di tantissime aziende quindi mai 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 stopparsi perché non si sa mai c'è dall'altra parte che poi il mentor secondo me il mentor dice vedi questo vuole cioè è un elemento che lo vuole questo posto cioè sta insistendo lo vuole veramente magari diamogli una possibilità se vedi una persona che fa sì però non mi ha risposto magari non gli scrivo più non ti si apre una porte che invece se continui l'esempio di Disney insomma ci sono più provi nella vita e più secondo me hai la possibilità di far soprattutto se c'è passione bravissima quello sto dicendo per fare questo ti serve una cosa ti deve piacere assolutamente perché se non c'è passione ti scocci se una cosa la vuoi secondo me io poi magari il destino è imprevedibile se l'ho stato fortunato ma se una cosa la vuoi e non molli prima o poi arriva ci può volere più tempo ci può volere più sforzo però se ti metti in testa che questo è il tuo obiettivo non credete a chi dice no ma è difficile è un ambiente competitivo la competizione c'è ovunque il discorso è quanto vuoi una cosa se una cosa la voglio faccio quello che serve ma la ottengo però per fare ciò mi deve piacere assolutamente d'accordo Andrea guarda ti ringrazio tantissimo grazie a te Anita spero che sia stato utile per i ragazzi soprattutto appunto chi vuole fare un'esperienza e comunque insomma di ricerca come hai fatto tu e niente ragazzi guarda se ci sono insomma se qualcuno ha delle domande insomma se le vuole fare a te le rigiriamo possiamo anche fare una seconda o mi lasciano su youtube poi io te le giro se ci sono delle domande sai uno abbia fatto questa interview cercando di coprire un pochino gli argomenti che i ragazzi possono sapere però se magari loro vogliono che noi facciamo insomma rispondiamo a delle domande eventualmente magari puoi lasciare la tua mail io la posso lasciare sotto nella descrizione di youtube ti possono scrivere direttamente o anche linkedin esatto lascerò allora a tutti i tuoi contatti grazie mille Andrea ragazzi ci vediamo alla prossima interview un bacio grande ciao ciao